L'onda del futuro è pronta a lasciare il segno, l'appuntamento è fissato a martedì 23 aprile con la partenza alle 17 da piazzale Besta a Taranto e il nome della manifestazione che per la prima volta dopo anni raduna decine di associazioni e movimenti impegnati nella battaglia contro l'inquinamento con tre parole chiave, salute, ambiente e lavoro. Il corteo stavolta punta soprattutto sul coinvolgimento dei giovani, il percorso si concluderà all'apparco archeologico delle mura greche per un momento di riflessione musica, lo stesso teatro naturale che ospiterà come ogni anno l'1 maggio libero e pensante. La manifestazione è stata presentata in via Alto Adige sotto il manifesto realizzato dall'illustratore Zaza, tra le mani lo striscione realizzato da fotografi per passione che mostra Taranto come fabbrica di bellezza. La partenza è prevista alle 17 da piazzale Besta per finire sul parco archeologico dove ci sarà un palco adibito dai liberi e pensanti, dove ci saranno interventi e musica, alcuni degli artisti che hanno sottoscritto questa causa e alcune associazioni che partecipano, quel siderurgico e quella produzione non sono più compatibili con la vita umana, non lo sono in realtà da decenni ormai ed è arrivato il momento per tutti noi di aprire gli occhi. Questa manifestazione riguarda il lavoro, riguarda la sanità, la scuola. È una città che dobbiamo valorizzare e riprendere dal punto di vista territoriale, dal punto di vista delle bellezze naturalistiche che ha questo posto. Noi combattiamo quotidianamente. Non possiamo più continuare a voltare le spalle alla terra e non guardare le esigenze e i bisogni primari nostri e del pianeta. Quindi siamo arrivati in un punto di non ritorno, però dobbiamo darci da fare, secondo me. Ci vogliono anni e anni di impegno.